Colpo a segno. Merda! Raggiungo questa zona. Aria a bersaglio marcata. Fuoco! Ricevuto. Phoenix 2-3 in arrivo. Attacco imminente. Colpo diretto. Mi muovo! Mi da io la spalla, scuola! Mi da io, scuola! Mi da io, scuola! Mi da io, scuola! Mi da io, scuola! E io. Ben fatto squadra. Un punto di rifornimento in meno per il nemico. Chi trova tiene. Servitevi pure. Libero. Continueremo a incalzare quei bastardi finché non ne resterà niente. È un ordine. I mercenari stanno trasportando armi in un veicolo... Aria a bersaglio marcata. Fuoco! Abbi la porta di quella rimessa. Meglio non trattenersi troppo. La superiorità aerea è una gran cosa, eh? Specialità, Kazuha. Mettetevi al lavoro, squadra. Qualcuno ha chiesto un recupero? Sono sul punto in attesa. Chegno! 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 Oh Oh Sono sotto attacco Tori caricando Mi sparano Parezza sono un razzo in funzione fatelo fuori Non devo certo ricordarvi cosa accadrebbe se quell'Etherium dovesse sfuggirci Ricarico! Ricarico! Un rubber tattico Avviano i razzi ostrattori Se non gli impediamo di attivarli per noi sarà una bruttissima giornata Un'imper 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 Graveno fa squadra di terra Abbiamo identificato il cavo di termino sulle ricerche necessarie a Jansen per completare il dispositivo Le vostre azioni sul campo hanno messo in difficoltà il nemico Ora dobbiamo colpire, pronti all'estrazione Presto inizieremo l'assalto Capo Deadbolt, qui Dobs Suggerisco di dare un'occhiata alle prese che ho appena inviato Sembra che stia arrivando qualcosa di grande Cazzo Dobs Sembra non è